Cari colleghi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, avevo detto che non avrei smilato, non facevo miele in quest'anno e infatti non l'ho fatto perché questo qua è il miele del mio collega. Io non l'ho fatto, però lui sì perché c'è stata una gestione ovviamente completamente diversa, la calcia l'abbiamo persa, però il castagno ci è fatto. Non è purissimo, però è un bel migliofiori come l'anno scorso di castagno. Io comunque non punto a fare un miele puro, già fare miele è già tanto. Guardate qua, questo è il delineo più bello, percolato da ambo i lati, magari dopo una bella foto con 2023. Dovevo farmele l'anno scorso con 24-25-26 in previsione. E basta, non starò qua a dilungarmi tanto perché conoscete già come si fa, si disopercola. Qua ce ne sono già dentro alcuni perché erano due emelari e questo qua era diciamo quello più scarso e perciò questo abbiamo già messo dentro. C'è stata più semplicità nel pulire i telaini dalle api perché erano pochi, li abbiamo spazzolato uno a uno. E via, una cosa bella che voglio farvi vedere è questo, che è riuscito a fare il miele in favo. Qua c'è un pezzo di api. Buono, che magari togliamo. È riuscito a fare il miele in favo, volevo farlo anch'io, però sapete com'è andata. E basta, è carino dai, non siamo riusciti a percolarlo tutto perché ormai è finito tutto, non c'è più niente. Anzi iniziano a portare i emelari adesso. E basta, quelli due centrali sono anche bellini dai. Magari faremo una foto dopo quando sono dentro nella confezione. E basta la clip successiva, magari quando faremo vedere l'apertura. Guarda anche questo qua, che bello. Che bello. Oh, che coercio, guarda. E la madre. Non lo vuoi far vedere questo, guarda. Mamma mia. Oh, poco casino. Che bello che vengono, guarda, che vengono riusciti. Sto pulendo il miele che manco è io. Allora, primo carico pronto, mi assicuro che qua si è chiuso e iniziamo. Mi ricordo che questo fa rumore. Non lo vuole, non lo vuole, non lo vuole, non lo vuole. L'unico miele 2023, castagno, mille fiori. Eccolo qua. Guarda, adesso. No, vai, vai. Voglio solo provare il mio dito. Oh, ti va più che? Sto sporgando il tuo dito. Eh, sì, è particolare. Troppo tardi? Ormai. Diciotto. Momento della verità. Diciassette. Vediamo un po' su. Sembra molto liquido, ma... Mi vediamo anche me. Ah, già, com'è. Facciamolo vedere anche i nostri colleghi amatissimi. A me, ma scusa, ah sì. Che faccio più? Diciassette, è vero? Sembra molto liquido, ma fa caldo ed è appena stato segnalato. Perciò ci stiamo anche l'ultima volta. Comunque mi ricordo l'anno scorso che era molto molto liquido. Sì, provare l'assaggio superato. Um, um. Sì, provare l'assaggio superato.